Con chiusura lei ha annunciato anche dei fondi in favore della Valle Peligna e Sulmona, di cosa si tratta? Sì, noi abbiamo destinato 8 milioni di euro per 5 progetti che sono stati, diciamo così, emergono da quello che è una necessità del territorio della Valle Peligna e anche dell'Alto Sangro. Riteniamo di stare facendo la nostra parte insieme ai 20 milioni di euro che saranno destinati proprio per la Valle Peligna per i fondi FAS. Insomma, sappiamo che la Valle Peligna è l'area dell'Abruzzo che ha gli indici più bassi in termini di reddito pro capito e quindi vogliamo cercare di fare per la Valle Peligna quello che abbiamo fatto un po' per il cratere dell'Aquila destinando una parte dei fondi FERS in via specifica. Lo stesso stiamo facendo per la Valle Peligna.